Da quando faccio l'informatico ho capito che una delle più brutte sensazioni che possa provare un utente è quella di non avere il controllo del proprio computer e questo avviene prevalentemente durante la fase di avvio quando spessissimo si aprono delle finestre praticamente sconosciute e si avviano da soli dei programmi senza che apparentemente noi abbiamo il minimo controllo sulla macchina. Naturalmente Windows dispone del Task Manager che in parte ci consente di mitigare questa situazione ma come vedremo nel corso del video si tratta di uno strumento estremamente limitato. E allora che cosa è successo? Ebbene è successo che Microsoft ha deciso di fare una cosa buona e ha creato un'opzione che ci consente di gestire molto ma molto meglio queste situazioni ma naturalmente ha pensato bene di nasconderla nei meandri delle impostazioni di Windows. Purtroppo questo vale solo per Windows 11 e per Windows 10 come si fa? Ebbene non volendo lasciare scoperti anche gli utenti di Windows 10 ho pensato ad una soluzione altrettanto efficace anche per loro che voglio farti vedere. E allora che cosa stiamo aspettando? Se ti senti pronto iniziamo. Ma quanto è fastidioso quando all'apertura del computer ci troviamo una situazione come questa senza aver fatto neanche un singolo click del mouse. Andiamo a fare un po' di pulizia perché altrimenti non riusciamo nemmeno a lavorare e vediamo innanzitutto a che cosa è dovuta questa situazione. Possiamo vedere quelli che sono gli elementi in esecuzione automatica che sono queste finestre che ci si aprono all'avvio del computer premendo la combinazione di tasti che ormai dovresti conoscere ctrl shift e desc. Facciamolo insieme e ci ritroveremo in questa schermata. Cliccando su questo pulsante cioè quello che si chiama proprio app di avvio ci ritroveremo con un elenco di tutte quante le app che sono candidate all'esecuzione automatica sul nostro computer. Nel momento in cui vorremmo che qualcuna di queste app che risulta essere abilitata non lo sia più e quindi non venga avviata automaticamente quando accendiamo il nostro computer ci basterà fare un click con il pulsante destro del mouse e scegliere la voce disabilita. Naturalmente quest'operazione andrà ripetuta per tutte quelle app che vogliamo disabilitare una per ciascuno. Nel momento in cui invece volessimo riattivare un'app che è stata magari erroneamente disabilitata ci basterà fare la stessa operazione al contrario e quindi cliccando e scegliendo invece la voce abilità. E fin qui niente di nuovo sotto il sole lo riconosco ma cosa ne diresti invece se Windows ci avvisasse nel momento in cui un qualsiasi programma tentasse di infilarsi nell'esecuzione automatica? Ebbene questo è possibile facendo questa operazione. Andiamo in basso sulla nostra bandierina di Windows ovvero sul tasto start lo apriamo ci portiamo qui sulla voce impostazioni e nelle impostazioni ci porteremo a sinistra sulla voce sistema. All'interno di sistema ci porteremo sulla voce notifiche e nelle notifiche scenderemo fino ad individuare questa voce qui notifica app eseguita all'avvio. Che cosa fa questa voce? Ci consente di attivare la notifica che ci arriva in basso a destra in una forma molto simile a questa ma in italiano perché questo screenshot proviene da un computer in lingua inglese che ci avvisa che c'è una nuova applicazione e ci dice qual è che tenta di avviarsi automaticamente e in quel caso potremo fare la procedura che ti ho appena illustrato per andare ad intercettarla letteralmente in tempo reale. Naturalmente per attivarla dovremo semplicemente fare clic su questo pulsante accertandoci che diventi di colore azzurro e nero e che la dicitura si trasformi appunto in attivato. Ti consiglio di non sottovalutare l'importanza di attivare questa opzione di Windows 11 nel tuo computer perché oltre ad avvisarci nel momento in cui qualche programma dovesse essere posto nello stato di esecuzione automatica come abbiamo appena visto sarà molto utile in tanti casi anche per individuare i comportamenti di alcuni malware che zitti zitti alla chetichella si infilano proprio nell'esecuzione automatica. Ma per Windows 10 come facciamo? Nessun problema anche perché voglio mostrarti un trucchetto davvero molto interessante che può essere utile anche su Windows 11 per migliorare l'efficacia di quanto abbiamo visto finora. Per metterlo in atto però dovremo procurarci un piccolo programmino e per scaricarlo faremo esattamente come al solito e cioè apriremo il nostro browser di fiducia e all'interno del motore di ricerca andremo a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Apriamo la pagina e portiamoci in alto nella sezione Downloads. Nella pagina che si aprirà scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo software quello che si chiama Quick Startup che potremo scaricare facendo clic sul pulsante File Download. Tuttavia capita che qualche volta i software compaiano sul sito con qualche minuto nel migliore dei casi di ritardo e allora che cosa fare? Basta andare sulla lente qui in alto cliccarci su e andare a digitare nella casella di ricerca la stessa cosa ovvero Quick Startup. Premiamo il pulsante invio e nei risultati della nostra ricerca comparirà solamente lui. Facciamo un clic sul nome per andare a scaricarlo e il programma essendo minuscolo verrà rapidissimamente scaricato sul nostro pc. A questo punto facciamo un clic sul nome del programma appena scaricato per aprire la cartella compressa che lo contiene e andiamo a chiudere la finestra del browser retrostante. All'interno della cartella compressa facciamo doppio clic sull'unico file presente per lanciare la procedura di installazione. Confermiamo con sì di voler apportare le opportune modifiche al nostro dispositivo e nella prima finestra clicchiamo su avanti per procedere con l'installazione. Accettiamo i termini del contratto di licenza con l'apposito pulsante. Lasciamo tutto quanto com'è per quanto concerne il percorso di installazione. Clicchiamo ancora su avanti. Lasciamo spuntate entrambe le caselle se vogliamo e clicchiamo sul pulsante installa. In pochi secondi il software sarà installato sul nostro dispositivo e sul desktop comparirà questa icona qui. Clicchiamo a questo punto sul pulsante chiudi, chiudiamo la pagina che si aprirà, chiudiamo la finestra della cartella compressa retrostante e andiamo a vedere come funziona questo programma. Tramite la prima finestra relativa alla scheda programmi di avvio non vediamo niente di troppo diverso di quello che vedremo premendo la combinazione di tasti ctrl shift ed esc e portandoci come abbiamo fatto per quanto concerne windows 11 sulla sezione avvio con qualche differenza tuttavia. Mentre i programmi elencati sono assolutamente gli stessi in questa finestra andiamo a vedere per i programmi meno noti un livello di utilità stimata da 0 a 4 stelle in modo tale che se ci troviamo di fronte a qualche programma che non conosciamo e siamo in dubbio sulla sua affidabilità possiamo fare anche riferimento a questo parametro. A differenza del nostro task manager se vorremmo disattivare una qualunque di queste voci ci basterà cliccare su questi switch portandoli su disattivato e in questo modo il relativo programma non verrà avviato con windows. Viceversa naturalmente se cliccheremo su un pulsante disattivato questo verrà automaticamente attivato e il relativo programma tornerà ad essere eseguito. Ma il vero valore aggiunto di questo software lo scopriamo andando ad esplorare le altre schede. Cominciamo con attività pianificate al suo interno potremo trovare un elenco di tutte quelle attività che vengono eseguite periodicamente indipendentemente dai programmi in esecuzione automatica sul nostro computer come ad esempio può essere l'aggiornamento di google che in questo caso è disattivato semplicemente perché l'ho messo io su disattivato ma può essere tranquillamente attivato e viceversa con il relativo selettore. E passiamo alla terza scheda ovvero quella relativa ai plugin. Che cosa sono i plugin? Puoi immaginarli come delle funzionalità aggiuntive che vengono appunto addizionate alla nostra shell di windows. In questo caso per esempio OneDrive aggiunge alla nostra shell dei comandi proprietari che servono appunto per la gestione del suo cloud. Nello stesso modo i plugin possono essere attivati e disattivati agendo sui relativi selettori. E veniamo alle ultime due schede e cioè servizi applicazioni e servizi di windows. Ma che cosa sono i servizi? Puoi immaginarli come dei piccoli programmini che svolgono dei task specifici nel contesto di windows se si tratta di servizi di windows oppure di un determinato programma se si tratta dei servizi applicazioni. Ad esempio un servizio di windows potrebbe essere quello che gestisce tutte quante le connessioni di rete mentre un servizio di una applicazione potrebbe essere quella funzionalità dell'antivirus che va ad effettuare la scansione di tutti quanti i file. Se andiamo ad aprire i servizi delle applicazioni scopriremo tutti quanti i servizi che sono appunto relativi alle varie applicazioni e allo stesso modo di come abbiamo visto fino ad ora potremo singolarmente andare ad attivarli oppure a disattivarli. Stesso discorso per quanto concerne i servizi di windows anche se a maggior ragione in questo caso ti pregherei di fare la massima attenzione nel momento in cui vai a disattivare qualche servizio perché rischi di compromettere il buon funzionamento del tuo sistema. Alcune precisazioni. La prima è che probabilmente avrai notato che c'è un pulsantino in questo programma che ti propone di passare alla versione professional. Ebbene devo dirti che la versione professional di questo programma non esiste o meglio esiste ma sono le Glary Utilities Professional. Glary Utilities è un pacchetto sicuramente molto interessante che ho presentato in un video precedente che ti lascio linkato qui in alto nel caso in cui te lo fossi perso ma che non va ad aggiungere niente alla funzionalità di questo singolo programmino nel caso in cui lo usassi esattamente come lo abbiamo visto oggi. La seconda precisazione invece è un qualcosa a cui tengo moltissimo e riguarda la sicurezza ovvero nel momento in cui dovessi andare a pastrugnare con l'avvio automatico delle varie applicazioni dei servizi e così via ti prego di stare estremamente attento perché non smetterò mai di ribadire l'importanza del sapere quello che si fa e quindi se sei in dubbio se disattivare o meno un'opzione piuttosto non farlo per non andare a rischiare di mettere a repentaglio la stabilità del tuo sistema. Ce l'ho fatta. E devo dire che soprattutto alla fine del video almeno secondo me si sente tantissimo la mancanza delle nostre classiche clip ma come ben sai abbiamo fatto un fioretto che finisce il 19 di settembre data fino alla quale noi dobbiamo fare proprio i bravi bambini. Poi magari le cose non escludo che tornino esattamente come erano prima. Ma proprio a proposito del nostro fioretto voglio farti una domanda. Hai scoperto il nostro canale segreto? E hai scoperto la nostra chat segreta? Beh se la risposta è no sappi che nella descrizione di questo video ti metterò tutti quanti gli indizi necessari per andare a trovarli. Anzi te li linko direttamente. Ma torniamo a noi e soprattutto ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi vanno a Paolo Pizzi, Alessandro Bellocchio, a ZapHub e a Mario Marzorati per essersi abbonati barra riabbonati al nostro canale. E quindi carissimi amici vi do il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini. Ma un ringraziamento speciale va a Silverio Bisogno e Massimiliano Fraticelli perché si sono abbonati sì ma in qualità di distinti gentiluomini. Quindi cari ragazzi è con estremo piacere e con onore che mi levo il mio cilindro farlo davanti a voi. Ed un ultimo ringraziamento anzi no un penultimo va ad Alex Bocelli che con il suo super grazie ha voluto contribuire a sostenere la nostra community. Ti ringrazio tantissimo caro Alex e se quello di Alex era il penultimo ringraziamento significa che l'ultimo ringraziamento è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento. Alla prossima!